Una settimana conclusa con numeri decisamente confortanti, quella appena passata per la Campania dal 10 maggio al 17 maggio nella nostra regione 5 morti contro i 27 di 14 giorni fa, 96 i positivi invece contro i 104 di due settimane fa. Ieri sera il bollettino dell'unità di crisi segnala 11 positivi su un totale di 3.691 tamponi, in totale attualmente nella nostra regione sono 4.695 i positivi. Resta attiva la zona russa nel comune di Letino fino al prossimo 20 maggio, 64 invece i viaggiatori sottoposti a test rapido che sono rientrati in Campania, 3 sono risultati positivi e sono stati sottoposti a tampone in attesa di riscontro. Complessivamente i rientri registrati dal 4 maggio ad oggi sono 24.100, 205 le persone con febbre 4.354 i test rapidi eseguiti di cui 134 positivi, i tamponi effettuati sono stati 158.